C'è l'asfalto sconnesso, ci sono buche che quando piove si riempono d'acqua e rappresentano un pericolo per automobili e pedoni. Ci sono i rifiuti, sacchetti di immondizia gettati un po' ovunque e poi ci sono gli alberi, lasciati incolti e alle volte anche pericolanti. È quanto accade nel piazzale del bar La Fenice, davanti al foro boario. Un degrado che in passato è stato più volte denunciato dal proprietario del locale, Fabio Antonetti, e segnalato al comune e agli enti competenti. E pensare che questa zona potrebbe essere un luogo di ritrovo per cittadini e turisti, data la posizione alle porte del parco fluviale. A mia richiesta credo che mettendo intanto in sicurezza a rifarci dagli alberi e le buche al bordo asfalto, perché quelle sono veramente pericolose. Ritengo che poi l'estetica, se viene asfaltata, non ha importanza, però togliere le buche e guardare gli alberi, perché sicuramente andare incontro a qualcosa di brutto, qualcuno che si fa male, è spiacevole. Il problema, come spiega Antonetti, è generalizzato. Qui infatti un malcostume tira dietro l'altro e le persone, vedendo il degrado di lagare, pensano che si possano abbandonare i rifiuti, anche se a lasciarli qui non sono solo i cittadini, ma pure alcune imprese artigiane. Andiamo dalle bottiglie, dai sacchetti di imbianchini, che potrebbe essere colla, chissà, roba tossica, comunque non è bello. Solo una volta, in passato, il comune è intervenuto per rimuovere un albero pericolante, proprio di fianco al bar, dopo l'ennesima segnalazione da parte del titolare. Dopo questo intervento, però, nessuno sembra essersi più fatto vivo, nonostante le sollecitazioni di Antonelli, che da otto anni lotta per migliorare la situazione.